Allora ragazzi mi avete lasciato quasi 600 like nell'ultimo video e io sono tipo I 6 dislike sono sicuramente gli sviluppatori che non hanno preso bene quello che ho detto nel video Però se ci si comporta bene queste cose non succedono teoricamente Magari nella prossima patch Ah no è vero è l'ultima Ah raga manca una cosa importante Comunque a parte gli scherzi Vi ringrazio davvero tanto per il supporto nell'ultimo video Sono rimasto molto molto contento e anche un po' incredulo E sicuramente un risultato del genere non me lo sarei aspettato Ma ora entriamo nel nostro mondo perché oggi vi devo mostrare qualcosa di veramente molto molto carino Una nuova meccanica che cambia in modo consistente lo stoccaggio diciamo degli NPC nel mondo Non è la parola più adatta perché sembrano degli oggetti però alla fine Vi ricordate che nello scorso episodio per qualche strano motivo la musica è cambiata dal nulla Sentite La musica è quella di una normale cittadina di NPC Ebbene sì Ora se abbiamo più di due NPC La zona circostante viene riconosciuta come una town Quindi una cittadina E questo ci darà anche altri privilegi Ah devo dirvi che per penso un bug La musica spunta dopo il terzo NPC Però comunque la cittadina viene riconosciuta dopo il secondo Ah è spawnata anche una nuova NPC E poi andremo a vederla La zoologist Comunque gli NPC ora hanno una statistica che si chiama felicità La possiamo vedere da qui Cioè non vediamo proprio la statistica ma vediamo cosa pensa l'NPC di quello che è attorno Infatti ora gli NPC hanno delle preferenze Sia di bioma che di vicinato Cioè questi stronzi vogliono pure il vicinato giusto Oh ma che è La felicità può far salire o scendere il prezzo delle loro merci Quindi a noi ci interessa che gli NPC siano felici Per fare questo dobbiamo mettere gli NPC nei loro rispettivi biomi preferiti Ad esempio alla guida gli piace la foresta Quindi è già nel suo posto Il demolitore che prima era qui L'ho spostato in un piccolo villaggio Che ho costruito qua sotto Che ora andremo a vedere Il motivo è perché ovviamente al demolitore gli piacciono le caverne E appunto un demolitore quindi ha senso Il mercante lo stesso ama la foresta Ad esempio il goblin ama il livello cavern Così come il bombarolo Però in questo caso è un po' più complicato Perché sentite un po' Al nostro carissimo bombarolo Non piace la compagnia del goblin tinker E quindi dovremmo metterlo da un'altra parte Gli NPC si possono amare tra di loro Si possono piacere Non piacere E odiare Cioè teoricamente questa è una copiata giusta Non hanno sentimenti negativi tra loro Neanche positivi Però comunque il die trader qua non ci sta a fare niente Perché al die trader piace il deserto Devo pure viziare gli NPC ora In sostanza più sono felici Più carano i prezzi Ma non solo ragazzi Quando la felicità degli NPC è abbastanza alta Gli NPC potranno venderci un nuovo oggetto Questo oggetto si chiama Pylon Questo Pylon è effettivamente un teletrasporto Che creerà appunto una rete di teletrasporti In tutti i villaggi che noi vogliamo creare C'è un Pylon per ogni bioma Eccetto ovviamente le corruzioni e l'inferno Insomma biomi dove ci possono vivere gli NPC Ovviamente funzionano solamente se c'è una cittadina Ne possiamo piazzare uno per tipo E nel bioma giusto Ovviamente il Forest Pylon lo piazziamo nella foresta Che ne so Poi piazziamo il Cavern Pylon Che qua il demolitore ce lo può vendere E possiamo trasportarci direttamente da qui a qui Così da rendere accessibile Non solo il mondo Ma anche gli altri NPC Ovviamente vogliono essere felici E che cazzo Non è che dovete fare voi felici E io infelice Perché mi devo fare tutta la cosa a piedi E ovviamente hanno fatto sta roba Questa è un'altra cosa che mi piace Della 1.4 Non sono andato molto nello specifico Cioè statistiche e cose del genere Perché non mi interessa farlo Piuttosto mi limito a fare quello che è giusto Per questi poveretti Finalmente non staranno tutti Stoccati in modo vicino Come delle galline In un lavamento intensivo Tra l'altro c'è anche una distanza di blocchi precisa Dove l'NPC può odiare un altro O può amare un altro Quindi noi possiamo anche giocare su questa roba Metterli lontani E quindi magari non si cagano E non avremo un modificatore negativo Però non possiamo neanche avere quello positivo È una cosa che comunque non ci conviene fare Non posso comprare i pylon perché effettivamente non ho un soldo Anzi dobbiamo ancora esplorare questa parte del mondo Cercare qualcosa Effettivamente facciamo 140 di vita Due oggetti messi in croce Cioè nel senso Ah comunque mi avete detto che il meteorite Non è più possibile estrarlo Con le bombe E con le dinamite ovviamente anche Sì è giusta però Che palle Un deserto Un deserto Cosa? Non è più possibile raccogliere cactus così? Teoricamente qua dovremmo trovare l'oasi Spero non sia questa perché questa è l'oasi della chicco ragazzi Non... Ah ok Ok L'oasi c'è L'oasi c'è La vediamo per la prima volta ragazzi Ed eccola qui che bella Molto bella Quanto inutile penso E ora ci inoltriamo nella crimson Io ragazzi non so per quale motivo non ho scelto un mondo corruption Tra l'altro non c'è l'entrata per l'underground desert Hanno cambiato appunto la generazione del mondo Quindi avremo delle sorprese Guardate un po' come si è generato qua davvero altissimo Mi piace questa cosa Trovare il terzo paio di climbing clothes Mi prendo un po' alle palle devo ammetterlo E torniamo nel bioma normale foresta Qua Uh ma è uno sgabello questo raga Quindi io posso arrivare più in alto Costruendo Non posso saltare più in alto peccato Sicuramente non batterò il moon lord saltando più in alto con questo sgabello Altra chest Glow pipe va bene Iron skin potion buona Qua abbiamo Uh guardate un po' raga una casettina Così in alto Sinceramente non mi è mai successo Però so che poteva accadere anche prima Qua c'è un'altra chest Ok Wind of sparking Addirittura deadly Mortale Mamma mia Uh che culo Che culo Un portale d'oro Ma io non posso morire quindi ragazzi A parte che posso comprare il pylon Io quando muoio in master mod Droppo tutti i miei soldi Oh Mace Con reforge superior Vediamo che tipo di arma è È un flare E i flare dovrebbero avere la nuova meccanica ragazzi No vabbè raga Io posso proprio fare Questo e lanciare Guardate Specchio alla mano ragazzi Anzi lo metto direttamente su due Ci trasportiamo subito via nel caso di pericolo Chissà quanto fanno le trapper Ecco qua si interrompe pure Vabbè non fa niente Torniamo indietro Mi sono completamente dimenticato di mostrarvi Questa gem corn Che ovviamente andremo a piantare Flaming mace Con 99 torce possiamo fare l'upgrade A questo flare Quindi lo facciamo E vediamo un po' Semplicemente la stessa cosa Solamente che è infuocato Eccoci qua ragazzi Non solo sono sceso in caverna Ma mi sono spostato anche Nella cittadina Che ho creato qua sotto Ovviamente chiamarla cittadina È un po' grande come cosa Però presto lo diventerà Ecco qua i miei tre alberelli Appena crescerà quello di sapphire Potremo fare il rampino Ah tra l'altro a proposito di rampino Lo vende anche la zoologist E mi sono dimenticato di mostrarvi questo npc Quindi andiamo subito Ah ho cambiato la musica Sì sì questo è il windy day Vabbè prima di tutto È felice The forest is like the best place ever Quindi gli piace un sacco la foresta Perfetto Vende la guida per i critter Ok Squirrel hook Cat license Used to let a cat arrive in town Oh mio dio Quindi fa venire praticamente un gatto Koi kite Ah questo è un aquilone Ok Che potremmo anche usare in questo momento Però io non ce li spendo Un oro E se sono tanta argenti Per mostrarvi quella roba Piuttosto mi prendo il rampino ragazzi Cioè abbiate pazienza Compratevi voi gli aquiloni E fateli volare per i cavoli vostri Eccolo qui Vediamo un po' quanti ne fa Ah solo uno Ok No Vabbè Possiamo arrampicarci negli alberi veramente Io pensavo fosse solo una descrizione così a caso E invece sì Con tutte quelle airbag che ho aperto Nessuna di esse mi ha dato Una moon glow Per craftare una spelunker Cioè questo aggiornamento c'era con le spelunker potion Secondo me Vabbè tanto quando arriviamo nella giungla Le troveremo Oh e queste Hanno aggiunto le canne di bambù Diventa un blocco Tipo il cactus Ok Ragazzi se non c'è l'entrata per No Quanto cazzo di vita ha questo? 180 No Non può avere uno slime 180 di vita Inizio gioco Questo è l'incubo Questo è l'incubo No vabbè Con più vita poi Vabbè Ciao Posso farlo un passo verso le Oh Oh Finalmente No No C'ho il final buy Mi scomento che questa non porta verso le E poi l'altra invece sì Ok Ok Una cesta Una cesta E abbiamo Spear Con molta Molta Cautela No vabbè Eh L'ha copiata perfetta Slime Cosa Dopo un'eternità ce l'abbiamo fatta Nuova musica Nuova musica dell'underground jungle Una casettina lì Godo Che suoni strani sto sentendo raga Questa musica è davvero strana Io muoio di nuovo Un life crystal Qui Con Quattro piragna Non è normale sta cosa E abbiamo ok L'anklet of the wind Va bene Potevi fare di meglio Eh un altro life crystal Godo Finalmente I miei cuoricini Finalmente Un bioma del granito Ok Addentriamoci Ok c'è una casettina Ed è piuttosto grande Questo bioma Vabbè Alla fine si generavano Così grandi anche prima Però E abbiamo Un'altra maze Allora Devo cercare di non morire Perché ho visto che ho qualche ore Quindi sarebbe opportuno Ok Oh 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 Cos'è questa roba Una casettina Ok Sto andando molto molto safe Per non morire subito Ma davvero tanto Cioè io ci sono qua Tanto tempo Io confido In degli Hermes boots Ragazzi Per favore Nell'altra serie Ne ho trovato 5 paia O 6 paia Non so quanti erano Ma cosa ho fatto io di male Nella vita Non avete idea La voglia di tirarla Che ho in questo momento Vabbè pure gli oplitti Ok Quanta roba c'è nello schermo È un'altra casettina ragazzi Allora io se trovo Un'altra di queste È proprio G-Met classic Trovare le cose Quadruple o quintuple Nelle ceste Non è possibile Fare in altro modo Però Cioè capita solo a me Ragazzi Ho una Una morte Allora io faccio così Me ne vengo qui Tra l'altro quella ceste Ragazzi mi sa Boh Non lo so È un po' strana Quella ceste Perché è buttata lì A caso Io sinceramente Raga non mi fido Ve lo giuro Che io non mi fido Voglio aprire prima l'altra Voglio aprire prima l'altra Perché ho paura Non lo so Il miglior modo Per sconfiggere i mob È non sconfiggerli Ti devi fregare Cioè devi Fottere la loro Intelligenza artificiale È abbastanza Stupida A proposito di Intelligenza artificiale Ovviamente Non l'hanno cambiata Vediamo un po' Band of the generation Un altro Looking guy Ci sta Ci sta Allora questi esami Sono caduti in basso Non possono più risalire Quindi Se ne andate pure a cagare Qua ho il presentimento Che mi arrivi Qualcosa Facciamo questo Questo qua lo intrappoliamo Qua sotto Cioè raga il mio uccello Non funziona Non vado sul nemico Perché Ma è ovvio che devi andare qua Ok metto il target E non ci va comunque Va bene Ok Sai come cazzo ti pare Apriamo la chest Oddio Un altro suspicious looking guy Magic mirror Che non ci interessa Ho sette ore Posso comprare altro pillone Ragazzi Mamma mia Ho fatto la provata del secolo Ci ho fatto la cazzata E poi la provata Ok Un altro shrine Zona abbastanza ampia Promette bene E l'apriamo Abbiamo Le Feral Clothes Ok Living Mogani Wind E Leaf Wind Ok Questa ci serviranno Per quanto riguarda la vita Very very low Doviamo trovare assolutamente altri cuori Ma comunque Riuscirò a fare la spellunker Perché non amo un glow Quindi Insomma a posto E vabbè Questo se mi prende Mentre che salto Mi butta nella lava Quindi vado a cagare proprio Che bello che c'è la lava qua I mob si uccidono Davvero Questo uccello fa quello che vuole Io lo punto sul mainhater E si mette ad attaccare altri mob Ah ho capito Io devo tenere per forza La staff in mano Per poter dare il target Oh Altri due Life crystal Raga Godo Uno Preso Oh Un pezzo di armatura Godo Ancient cover breastplate Ok Un'altra cesta d'oro Devo trovare gli stivali ragazzi Così facciamo Life of Tulu Ci prendiamo il nostro cuoricino E In totale abbiamo la vita A 2.40 Ci sta Ci sta Andiamo a prendere la cesta Dai dammi gli stivali di Hermes Per favore Me ne hai dato 6 Nell'ultimo playthrough Ti prego Ti prego Ma perché Cioè Cristo Un po' di diversità Nelle chest Tra l'altro ragazzi Mi sono appena accorto Che non si può usare Più come inventario Lo slot Dei vanity Che palle Ecco vedete Questa è una cosa Che non mi piace Raga Cosa viene fregato Cioè nel senso Potremo provare Nel bioma ghiacciato A trovare I flurry boots Allora comunque Siamo abbastanza Equipaggiati bene E riusciamo a Non morire Effettivamente E poi vorrei anche Comprare il pylon Che si trova Lì sotto in caverna Quindi andiamo prima A comprare quello Ed eccoci qua Finalmente ragazzi Allora Ok I soldi non li ho depositati Per fortuna E non sarebbe questo Il caso di perderli Ok Siamo a posto Perfetto Un albero Un albero è già cresciuto Quello di diamante Vabbè Facciamo crescere Anche gli altri Allora vediamo Un po' Shop Eccolo qua Cavern Pylon E lo compriamo Piazziamolo Perfetto E proviamolo subito Bomba Bomba raga Non c'è cooldown Non c'è limite Ed è una figata ragazzi Eccoci qua ragazzi Allora No Il blocco li lascio qui Niente Mettiamoci a scavare Un pochettino Con le bombe Perché sicuramente Non mi metto a scavare Col piccone Ok E cerchiamo l'entrata Che in questo caso Potrebbe essere questa Non è Ho messo 30.000 bombe Inutilmente Ci dovremmo essere Spero Io finisco le bombe Non ho ancora trovato Un'entrata Verso il basso Ok Ok Grazie terraria No niente ragazzi Questo bioma Secondo me è fatto Solamente da blocchi Blocchi Fino Fino a giù Un rail Ok Già siamo in una zona In cui ci potrebbero essere Delle chest Quindi magari Attiviamo la spelunker Ho sbagliato Eh vabbè No 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 C'è la spelunker Qua devo scendere Così Me la sono vista Davvero brutta In quel momento Però vabbè Ci siamo Ci siamo Un life crystal Lì sopra E qua dentro Troveremo i flurry boots Ovviamente Garantito ragazzi Qua ci butto una bomba Così muore subito Sto disgraziato Ok perfetto Ok perfetto E troviamo Lo snowball cannon E va bene Allora direi di non perdere tempo A prendere questo cuore Che tanto Bene o male Se faccio così So già dov'è E andiamo a cercare Delle chest Perché tra un po' Mi scade la pozza No E' scaduta la spelunker Raga Questi mob mi hanno fatto perdere Una quantità Immensa di tempo Non avete idea La voglia Di esplorare Tra virgolette Nel senso Trovare una cava E scendere verso il basso E trovare le cose Ma è possibile Ragazzi C'è Oh un'altra chest Raga E' il momento E' il momento Ok Flurry boots Va bene Andiamo avanti Facciamo finta di niente Lì un altro life crystal Va bene Finalmente ho trovato Uno spazio aperto Vedete ragazzi Avete dovuto utilizzare La spelunker In uno spazio aperto Come questo 3 e 20 La vita Va bene Un'altra chest Boomerang Ragazzi Non ci credo Non è possibile Te lo puoi anche mettere In quel posto Il boomerang Non mi serve a nulla Oh 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 Allora Una chest Di ghiaccio In mezzo ai ragni Allora ragazzi Io Io non so più cosa Non so più cosa fare Ho comprato 25.000 bombe Se è normale Una cosa del genere Allora ragazzi Se anche qua Non li trovo Io chiudo il video La cosa È davvero Molto 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 Frustrante Godo Non darmi Un'altra cosa Inutile E niente ragazzi Torniamo Effettivamente Da dove siamo venuti Ovvero dalla giungla Perché giustamente Io dovevo essere Sfortunato A livelli Cosmici Questa era Un'altra upper chest Che No io non ci credo Raga Io No non è vero Cioè raga Questa roba mi esplosa 40 anni fa In faccia Mi ha ucciso E io ero convinto Che fosse una chest Falsa Fasulla E invece dentro Ci sono gli stivali Ma stiamo scherzando Raga Ce l'avevo davanti Per tutto questo tempo Qui nel bioma Ce l'avevo qui Qui Voglio assolutamente Fare l'eye of cthulhu Perché ce lo possiamo permettere In tutte queste ceste Abbiamo trovato Un casino di oggetti Un casino di roba Guardate quanti richiami Questa roba è uscita Mardelus E lo prendiamo Nell'inventario Facciamo un paio di platinum bar Ok Dovrei avere già altre Ci craftiamo L'arco in platino Essendo la master mod Un cambio di statistiche Il boss avrà ovviamente Più vita Però Il moveset Sarà uguale Quindi sinceramente Se devo Proprio ammetterlo Non mi preoccupa più di tanto Prendo le pozze Allora io spero di non aver sottovalutato Il boss Ecco la barra Qua sotto Ciao carissimo No 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 C'è la feederfall Via via Poteva beccare Il boss La stella Cerchiamo di fare Una boss fight pulita Ripulire un po' dagli occhietti Sono abbastanza veloce Cioè Questo è il momento Delle geste raro È veloce È veloce Oh mio dio Anche gli occhietti Hanno più vita Ragazzi Minimali one shot Se non sbaglio Ragazzi Non ho capito Si sente Si sente La master mod Assolutamente Ok 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 Mamma mia Ok Molto veloce Sta impazzendo Oh mio dio Si 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 Master mod Approved No aspetta Sto dicendo Cazzate Mi è piaciuta Questa cosa Che era molto Molto veloce Non l'ho sottovalutato Mi aspettavo bene o male Fosse così Perché il moveset Alla fine ragazzi È rimasto identico Eye of two relics Can be placed Master Ah ok Questa è la scritta Della master mod Rossa e gialla E niente Da un buff almeno Cioè non fa un cazzo È inutile Solamente per scopo estetico Gli 0x 33 Aviators Ma questi non li dava Solo se lo battevi Con un personaggio hardcore Forse li hanno messi Anche per la master mod Vabbè apriamo la treasure bag 3 2 1 Boom E niente abbiamo Shield of Cthulhu Uscito Lucky Nel nostro canta enor Ci sta Visto che l'ho battuto Andrò a controllarmi anche Il drop special Tutta la roba che droppa Ecco Se c'è roba nuova Sto facendo così Più vado avanti Più mi spoilerò le cose Da solo Nel senso Ho capito questa cosa Della felicità Ho letto Happiness Che cos'è Andiamo a vederla Da solo sicuramente Non ci potevo arrivare Senza lo spoiler E niente raga Questo è stato un episodio Piuttosto lungo Da registrare E vedrò come editarlo Fatemi sapere Com'è stato Il vostro approccio Con la master mod Magari con i primi boss Così non spoilerate Cioè Se vi siete trovati In difficoltà O meno Io sinceramente Non tanto Visto comunque Il setup abbastanza buono Che avevo Ultimissima cosa Andiamo a prenderci Gli alberi Che saranno cresciuti Sì Uno Oh questa volta due Due sapphire Ok Ripiantiamo Non so neanche Sinceramente perché Lo sto facendo Tanto non mi conviene Però vabbè Tanto perché È nuova sta roba Guardate raga Il muschio sta infettando Tra virgolette I blocchi di pietra Comunque ragazzi Quindi spero che questo video Vi sia piaciuto Mi raccomando Se è stato così Lasciate un like E commentate Da Gmed è tutto Ci vediamo per il suo video E ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti